Giovanna Francesca De Filippis. Chi è? È un personaggio noto? È una persona conosciuta in tutto il mondo? No. Per noi è una persona che non conosciamo, eppure è una persona felice. Sapete da dove lo deduco? Da una sua riflessione sulla felicità che è stata riportata nel libro di Fra Emiliano Antenucci, Felici perché amati, che voglio ricordare ancora una volta, è un po' il testo che ci sta guidando in questo nostro percorso verso la felicità, in questo nostro percorso nella felicità degli altri, in questo nostro percorso nella vita di Cristo, perché per noi credenti la felicità è Cristo. Bene, questa signora Giovanna Francesca De Filippis, che padre Antenucci definisce membro dell'Equip dei Corsi di Silenzio, ha scritto una preghiera, riflessione, da cui io ho compreso la sua felicità, il suo desiderio di felicità e che vorrei leggervi, perché così tanti di noi possono dire a loro pensi che la vita ordinaria, la vita tra le pentole della cucina, come diceva Santa Teresa Davila, la vita nel tran tran della nostra quotidianità, in fabbrica, piuttosto che in ufficio, piuttosto che in ospedale, piuttosto che in una officina, piuttosto che in un campo delle nostre campagne, ebbene questa vita, in questa vita ordinaria, è possibile più delle vite cosiddette straordinarie, è possibile ancora di più quella felicità esistenziale, quella felicità che ci viene dal fare piccole cose con amore e questo amore renderà felice le nostre vite, le nostre esistenze. Questa riflessione è titolata sono felice perché sono amato, se mi sento amato potrò amare, io molte volte ho detto che la vera felicità è nell'amare, piuttosto che nel sentirsi amato, ma è importante sentirsi amati per amare, l'una non esclude l'altra. Sono felice perché sono amato, scrive Giovanna Francesca De Filippis, perché un raggio di luce mi sveglia al mattino, perché un Dio fatto uomo cammina al mio fianco e non sono solo nelle strade del mondo. Sono felice perché sono amato, perché il Padre dei Cieli mi ha chiamato per nome, perché non sono un caso, ma esisto davvero. Prima che carne mi generasse sono nato nel pensiero di Dio. Sono felice perché sono amato, perché il Signore mi attende oltre il mio peccato e potrò cadere altre mille volte, mille volte incontrerò il suo sguardo innamorato. Sono felice perché sono amato, perché valgo la vita di un Dio che ha dato se stesso per il mio sorriso, per la mia salvezza, perché fossi, per la vita eterna. Sono felice perché sono amato e non terrò per me questo segreto, diventerò il mio canto, lo slangio di ogni giorno sarà l'impronta di ogni mio passo. Perché chiunque mi incontri mi senta il richiamo e legga nei miei occhi il profumo, la voce del Dio indescrivibile che ha cambiato la mia vita e mi ha reso felice nel suo immenso amore. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti. Ciao a tutti.